Fabrizio Corona, su Telegram, ha sganciato la bomba, raccontando di n presunto litigio tra Sofico Degoni, e Sonia Bruganelli. Sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona, ha sganciato una vera e propria bomba. Sembrerebbe che Sofico Degoni, non farà più parte del cast di Avanti Un Altro. Il motivo sarebbe da ricercarsi in un litigio con Sonia Bruganelli, durante una delle ultime puntate della registrazione. Attraverso un messaggio su Telegram, Fabrizio Corona ha raccontato la situazione nel dettaglio, riportando alcuni retroscena che sarebbero da prendere con le pinze, data la mancanza di conferme, le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas, o Rifattas, Sofico Degoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione. Sofico Degoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l'immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione. In un messaggio in cui Fabrizio Corona si è lasciato andare a parole poco piacevoli su Sofico Degoni e sulla madre della ragazza, viene spiegato anche cosa sarebbe successo durante il presunto litigio. Una scena, quella descritta dal suddetto, che farebbe capire il grande clima di tensione e nervosismo presente in quel momento. Nel messaggio di Corona, si può leggere dell'altro. Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e, vaffa, vari. Risultato? Dalla prossima stagione non sarà più la bonus di avanti un altro. Sofico Degoni, è stata fatta fuori subito. Già riaperti ufficialmente i casting.